FEDERICO GALLONI Sono Federico Galloni di Paoli, Dino Paoli SRL. Siamo produttori di IMPACT Wrenchies. Questo show sembra essere molto migliore da due anni fa. Abbiamo visto più persone, più professionelle. Abbiamo visto più movimento e molto più interesse nei prodotti in generale. È positivo. In effetti, questo anno abbiamo deciso di creare la nostra proposta. E siamo qui con i nostri servizi. Tutto funziona, nessun problema. I prodotti? Quali prodotti stiamo presentando qui? Stiamo presentando il nostro IMPACT Wrenchies, che non è molto nuovo in generale, ma è molto nuovo per questo mercato. Stiamo presentando questo prodotto, che è un prodotto molto stabilito, ma è nuovo per la Spagna. Spagna e Portugal sono nuovi. Stiamo iniziando a gestire le vendite di questo prodotto. Ovviamente, dal punto di vista di dimensionale, è un piccolo mercato, ma dal punto di vista geografico è un mercato importante per noi. Gonsalteam ha fatto il suo meglio per promuovere i nostri prodotti, i nostri prodotti, eccetera. È un prodotto entusiasta. E siamo stati soddisfatti di cooperare con lui. Sì, stiamo crescendo, stiamo crescendo. Stiamo iniziando, perché fino a 2,5 anni, non avevamo nessun prodotto. Quindi è stato iniziato da zero. E poi vedo che è progressato molto. Grazie a tutti.